Il nostro favore per me è il posizionamento delle elezioni. Al ballottaggio, questo sicuramente è un dato molto negativo, però già al primo turno abbiamo dovuto constatare che tanti cittadini non hanno voluto partecipare al voto. Questo sarà compito della politica, ma non solo, di tutta la società, cercare di portare di nuovo le persone a credere anche nella necessità, nel senso di voler partecipare alla formazione della volontà pubblica tramite l'espressione del voto.